La prima puntata di Tale e Quale Show si apre con l'omaggio di Carlo Conti a Loretta Goggi. Durante la diretta di venerdì sera, il conduttore ha salutato l'ex giudice storica del talent di Rai 1 che è stata sostituita da Alessia Marcuzzi, subito punzecchiata da Cristiano Malgioglio. Primo giudice speciale Stefano De Martino. Lo aveva già fatto nel junket di presentazione dei nuovi concorrenti, lo ha ribadito anche nella prima puntata di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha nuovamente ringraziato e salutato Loretta Goggi, grazie per essere stata con noi in tutti questi anni. Sarà una nuova era senza di lei. Al tavolo dei giudici insieme agli storici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio c'è la new entry Alessia Marcuzzi, mentre come primo ospite speciale c'è Stefano De Martino. Tra i due in passato si è vociferato di una possibile relazione, mai confermata, ma che è poi coincisa con la crisi di entrambi i matrimoni. I due sono professionali, dispensano sorrisi ma si ignorano completamente e la Marcuzzi si è seduta a debita distanza proprio per evitare polemiche. Ci ha pensato Cristiano Malgioglio a metterci un po' di Pepe. Tra i concorrenti di Tale e Quale Show c'è Simone Annichiarico, la Marcuzzi ha detto di conoscerlo per aver lavorato in passato con lui e Cristiano Malgioglio ha lanciato una delle sue frecciatine. Certo, tu hai conosciuto tanti Simone. Marcuzzi spiazzata ride nervosamente. Certo. Simone Inzaghi è il padre di mio figlio.